Presentata alla Pinacoteca Civica di Como la mostra Voci dal paesaggio nordico dedicata agli artisti svedesi Britta, Marakat, Labba e Lars Lerin e curata dagli architetti Davide Adamo e Marina Botta in programma fino al 13 ottobre. Al centro della ricerca dei due artisti l'osservazione e la rappresentazione di una regione del nord Europa ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore, la fragilità del paesaggio, il clima e l'identità dei luoghi con la loro storia e le loro tradizioni, il dialogo tra arte e natura nordica viene sviluppato con diverse tecniche dai ricami all'acquerello. Per me è molto importante rendere presente, far presente quello che succede nella società oggi. Ci sono i cambiamenti climatici e ci sono anche tanti disastri in connessione con gli scavi che fanno perché questo fa sparire tutti i campi dove noi coltiviamo, dove abbiamo questi allevamenti delle renne, dove loro insomma vanno per i campi. Nella mia famiglia per tradizione lavoriamo tanto con i tessili, quindi mi sembrava giusto lavorare con l'arte tessile. Sono le mie impressioni di viaggi del tempo perché io dipingo soprattutto dalla zona di Lufuten in Norvegia e dalla regione di Värmland dove io vivo. Dipingo casa mia praticamente perché nella regione di Lufuten in Norvegia ho vissuto per 12 anni e invece poi dipingo anche casa mia che è Värmland insomma. Grazie. Grazie.